Cigep 2020 siamo allo stand della De Bic, l'azienda olandese che quest'anno celebra i suoi primi 100 anni e ci troviamo in compagnia del responsabile commerciale Italia Luca Pipolo. Luca benvenuto. Grazie, saluti a tutti. 100 anni sono tanti, magari dopo se ci riusciamo parliamo di quello che significa per voi celebrare 100 anni di attività ma nel frattempo parliamo del Cigep, che cosa presentate in questa occasione? I due argomenti si fondono perfettamente perché noi quest'anno celebriamo in ogni comunicazione, in ogni attività, in ogni presentazione appunto i 100 anni del brand De Bic perché sono 100 anni di dedizione e di impegno costante rivolto al professionista perché fin dal 1920 appunto quando è stato ideato è sempre stato rivolto al professionista il nostro attuale ancora cliente quindi una coerenza e una dedizione che dura da allora. Siete tra i preferiti dei professionisti della pasticceria e non solo, avete prodotti pronti all'uso in qualche caso che sono molto graditi da questi professionisti. Quanto impegno ci avete messo e continuate a mettere per la realizzazione dei vostri prodotti? Quanto studio? Quanta ricerca? La ricerca e sviluppo è uno dei pilastri chiave di questa azienda ed è il cardine di ogni produzione. Il prodotto viene studiato già pensando a quale debba essere la sua performance, la sua riuscita. Lo ha anticipato lei, il pregio, la validità dei nostri attuali prodotti e della nostra gamma è quella appunto di essere utile alla trattoria che ha bisogno di una soluzione semplice e rapida ma diventa anche uno strumento molto valido nelle mani di un esperto chef che sa tirar fuori il meglio da ogni prodotto e materia prima. De Bic, nella ristorazione professionale, in che modo vi ponete in questo canale? Assolutamente, in modo prepotente almeno, questa è l'intenzione. Ci caratterizza un'ampiezza di gamma che non ha uguali, abbiamo famiglie prodotto che tutte insieme non le ha nessun concorrente e all'interno di queste famiglie prodotto vantiamo una profondità di gamma che fa di noi dei professionisti del settore tecnico, quindi assolutamente è il nostro core. Luca, quali sono i prodotti e le gamme che voi proponete al pubblico professionale? Allora, nel canale ORECA sicuramente il top seller che continua a confermarsi tale è la nostra panna da cucina, una panna ideale per la lavorazione sui fuochi ed è il nostro prodotto più venduto attualmente in Italia, quindi assolutamente si parla da lì. Per poi allargarci ha delle panne pur da montare validissime per la pasticceria tipica della ristorazione classica, ha dei preparati rapidi per la pasticceria, inteso come dessert, la desserteria, e sono rappresentati da alcuni prodotti pronti all'uso o quasi, sono dei semi lavorati che dimezzano anche i tempi di preparazione tipici della cucina di un ristorante. Per il canale invece Bakery ovviamente la gamma di panne da montare è più estesa e ampia, ci differenziamo anche con dei formati ideali, perché talvolta soddisfare il cliente finale vuol dire anche dargli il formato che lui trova più congeniale per i suoi consumi e per il suo utilizzo giornaliero, ma soprattutto la profondità di gamma delle panne da montare per cui per ogni lavorazione c'è una panna ideale che può soddisfare al pieno le sue esigenze. Con la relativa formazione ovviamente. Assolutamente sì, noi abbiamo comunque dei tecnici che costantemente durante l'anno visitano i clienti, fanno delle demo e propongono delle ricette che ovviamente divulghiamo sul nostro sito e sono accessibili a tutti, ma abbiamo anche da quest'anno dei testimonial importanti per la pasticceria Leonardo Di Carlo, per il canale Oreca abbiamo Luca Montersino, quindi nomi assolutamente di grosso calibro. Oggi nello stand verrà a trovarci un amico che è Alessandro Borghese, quindi diciamo che abbiamo anche delle testimonianze alto locate, di alto livello, che confermano che il prodotto può coprire un range veramente dalla stella giù fino a qualunque livello, anche amatoriale a volte. E allora per chiunque si trovi dall'altra parte e desideri maggiori informazioni rispetto ai vostri prodotti o vuole semplicemente entrare in contatto con un venditore dell'azienda o un rivenditore, un concessionario dell'azienda, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui potrei scrivere senza alcun impegno? Sì, ovviamente c'è un format dedicato sul sito, è semplicissimo, è www.thebic.it e lì trovate sia le ricette, sia le informazioni di contatto, sia i riferimenti commerciali, qualunque cosa possa servire. Bene, e allora è arrivato il miglior momento delle interviste, l'assaggio. E dunque io confido nell'assaggiare il prodotto che ha realizzato con le sue mani poco fa Leonardo Di Carlo. Luca, grazie per la disponibilità. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a tutti.